Puntata speciale dedicata agli eventi di carnevale in tutta l'area provinciale di Napoli. Sono soltanto eventi gratuiti, subito dopo la sigla. Primo dei carnevali proposti, siamo in penisola sorrentina, in quello che è comunque considerato il più antico carnevale che si festeggia proprio in penisola, quello di Massa Lubrense. Siamo nella frazione Termini. Ebbene, da oggi sino a martedì 5 di marzo, tante sorprese e soprattutto tanti carri allegorici ed ancora le tante prelibatezze della nostra cucina, soprattutto quelle tradizionali proprio legate al carnevale. Secondo appuntamento, ci trasferiamo nel capoluogo pertenopeo, soprattutto nella collina del capoluogo napoletano. Siamo al Vomero e qui davvero maschere dolci e tante sfilate. Siamo nella zona di via Luca Giordano, di via Scarlatti. Ci saranno tanti attori che impersoneranno soprattutto le più tradizionali maschere del carnevale. E poi c'è una novità, ossia i cani verranno mascherati e verranno accompagnati per una sfilata proprio nel centro del Vomero dai loro padroni. Ci trasferiamo nuovamente nella provincia di Napoli. Siamo a Sant'Antonio Abate. Ebbene, lì c'è la tradizionale sfilata dei carri allegorici. C'è il corteo di maschere di carnevale. Il tutto da oggi sino a martedì prossimo, quindi sino al 5 di marzo. Le sfilate comunque partiranno nel pomeriggio alle ore 16 e i carri partecipanti sono davvero numerosissimi. Ci trasferiamo sempre nella provincia napoletana, questa volta però a Saviano, edizione numero 41 del carnevale. Anche qui tre giorni di eventi da oggi sino a martedì prossimo. Ritorniamo però a Napoli. Siamo nella zona di via Epomeo. E qui si festeggia la terza edizione del carnevale. L'appuntamento è soltanto però per stamattina, dalle 10 sino alle ore 14. Sarà tra l'altro molto suggestivo vedere una zona ad alta intensità di traffico, vederla completamente invece sgombra dalle auto, sfilate di tanti e decine di bambini in maschera, accompagnati dai loro genitori. Tanti comunque gli appuntamenti in ogni luogo di questa strada, dal punto di vista commerciale, molto importante per la città di Napoli. Sempre e soltanto martedì prossimo a Napoli, siamo questa volta nel centro storico, praticamente nei pressi di via San Gregorio Armeno, nell'ex asilo Filangiri. È lì che parte la kermesse dedicata al carnevale 2019. Il tema di quest'anno è Vir Buon Miettelent. L'evento è organizzato dalla rete Strummolo e soprattutto prevede una sfilata lungo tutto il centro storico, molto caratteristico e davvero da non perdere. Vi ricordo che tutti questi appuntamenti che vi sto, e tra poco ve ne consiglio ancora altri, sono tutti esclusivamente gratuiti. Poi ce ne sono anche tanti altri, ma ho preferito dedicare come sempre spazio a quello che è semplicemente un sano divertimento gratuito per tutti. Continuiamo. Appuntamento questa volta, sempre per martedì prossimo. Ci trasferiamo in uno dei quartieri più antichi di Napoli. Siamo vicino Capodichino. Il quartiere è San Pietro Appatierno. Lì si trova la masseria Luce, che è una masseria di proprietà del comune. Qui ci sono davvero tante occasioni di divertimento. L'appuntamento è a partire dalle ore 15 di martedì prossimo. con tanti balli, pinzillacche, delle cornie e soprattutto motivo in più per giocare per i più piccoli e la possibilità di vedere quelli che sono gli utensili di un tempo, perché la masseria ospita anche una sorta di museo contadino. Ci ritrasferiamo ora invece nella provincia napoletana. Andiamo a Somma Vesuviano, particolare andiamo nella zona del Borgo Casamale. Soltanto oggi, soltanto stamattina, c'è la consueta sfilata di tante maschere, di tanti carri allegorici e soprattutto c'è la cantata di 12 mesi, che in qualche modo si conclude con la morte del Carnevale. Nuovo appuntamento, sempre in provincia di Napoli. Siamo a Striano, edizione numero 36 del Carnevale. Sino a martedì prossimo, 5 di maggio, davvero tantissimo sano e coloratissimo divertimento. Siamo sempre nell'area metropolitana di Napoli. Questa volta andiamo invece a Terzigno. Lì si svolge la 22esima edizione del Carnevale. Due le giornate previste per festeggiare il colorato Carnevale. quella di stamani, sino alle ore 13, con la sfilata soprattutto di tante maschere con protagonisti assoluti sono i bambini. Poi invece nel pomeriggio, di martedì 5, la tradizionale sfilata per tutto il paese con i carri allegorici. Anche qui, ovviamente, come in tanti altri posti, che ho comunque detto fino ad ora ci sono bancarelle, posti, insomma, per mangiare le squisitezze e le prelibatezze della tavola partenopea in occasione proprio del Carnevale. E come ultimo appuntamento ritorniamo da dove avevamo cominciato. Sia in penisola sorrentina, ritorna dopo molti anni il Carnevale di Vico e Quenza. L'appuntamento è per martedì 5 di marzo, nel pomeriggio, in quella che è la porta della penisola, sfilate tantissimi appuntamenti con le maschere ed ancora, coriandoli, angoli allestiti per i bambini e poi anche tantissime, come sempre, bancarelle. Erano questi gli appuntamenti, tutti gratuiti per gli eventi del Carnevale dell'Area Provinciale e Metropolitana di Napoli, edizione 2019. Ho evitato di ripetere quelli che avevo già comunque proposto nella puntata di venerdì scorso. Potete andare a recuperarli, ce ne sono tanti altri in quella puntata, anche altri eventi che non hanno nulla a che fare con il Carnevale, ma si concludevano proprio il 5 di marzo, quindi andate anche a recuperare la puntata di due giorni fa e vi raccomando, non facite chiacchiere, a scita, per queste giornate di colorato divertimento. A domani!